Da oggi, 2 dicembre, dopo il Tg delle 14 e in replica dopo il Tg delle ore 20, parte su Cilento Channel il programma Help Me Agnese, condotto da Gianni Petrizzo e Agnese Mandetta. Si tratta di un format dedicato alla lingua inglese, afferma Gianni Petrizzo. Le ragioni che principalmente ci hanno invoiato ad ideare Help Me Agnese è perché l'inglese sta entrando sempre più in casa nostra e grazie ad essa le nuove generazioni avranno maggiori opportunità nella vita. Collaborare con Agnese Mandetta poi è stato divertentissimo, oltre ad essere una professionista della lingua inglese, è anche una donna che buca lo schermo, come si suol dire, grazie alla sua simpatia e ad una preparazione culturale globale. Riesce a mantenere i ritmi televisivi come pochi professionisti della tv. Sono sicuro che i telespettatori si affezioneranno a lei e alla sua bravura. Abbiamo realizzato la prima serie, composta da dieci puntate, tutte interessanti e da non perdere, e che andranno in onda da oggi, 2 dicembre, ininterrottamente per dieci giorni, per poi ripartire probabilmente subito dopo una breve pausa con la seconda serie dedicata al Natale. Insomma, Agnese Mandetta è venuta in aiuto a me, Help Me Agnese, per migliorare il mio inglese e aiuterà anche i telespettatori, ne sono certo. Per chi non riuscirà a vedere le puntate sul canale digitale terrestre e Smart TV potrà rivederle sul canale YouTube di Cilento Channel.